Se riscontrate problemi riguardo a questo script, l'errore che non riuscite a risolvere, riguardo al task.wbs è possibile risolvere questo problema andando direttamente su Utilità di pianificazione. Entriamo così nella libreria Utilità di pianificazione e come puoi vedere quello è il file da eliminare, quindi in questo caso voi dovete eliminare il Chromium Mode Update. Quindi tasto destro sopra, fate Cancella, quindi elimina così questo servizio. Una volta eliminato, quello che ti resta da fare è riavviare il tuo sistema operativo. Riavvia il sistema e risolverai. Se avete altri problemi potete commentare sotto al video, cercherò di realizzare un'altra guida a riguardo. Grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Grazie a tutti!